Ragazzi, annuncio ufficiale, non è un troll, vedete, non è un troll, da oggi David Rubino entra ufficialmente a far parte del Cerbero Podcast, pagato, pagato, pagato Ma che stai a fa'? Ricordate che i squali stanno arrivando! Il lavoro normale proprio, tutto contratto, tutto ci sarà Per tre volte a settimana, nei giorni in cui, quindi sicuramente il giovedì 15 E probabilmente avrà il giorno di riposo, quindi un giorno che in questo caso sarà I nostri riposi insomma Quindi complimenti, devo dire che ti abbiamo criticato giustamente Rubino si è tirato su le maniche da solo, si è fatto il culo E quindi secondo noi può essere una grandissima aggiunta Sia perché è bravo, sia perché Disco integra perfettamente Rubino è ufficialmente il Lund Boy! Incredibile! Siamo dal presupposto che la Roma è casa mia Un'avvocata mia, vice, ordine e disciplina Devi fare quello che ti devo dire 270 pounds! Indie! 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 Grande ritorno di Brasile! Non c'è Perché buona App Jest È Grazie a tutti